Il digitale è nata con l'aiuto di tutti i cittadini e di tutte le imprese che volessero e servirà a cittadini e imprese anche nel futuro perché potranno seguire le amministrazioni che cosa intende fare, che cosa farà e controllare che la facciamo nei tempi e nei modi che abbiamo deciso insieme di fare.